La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Proseguiamo con eccellenza dell'anno, innovazione e leadership del settore e di Le. Il premio va a Luxor Building. Bella applauso a Luxor Building. Per anticipare le tendenze del mercato e rispondere con flessibilità alle esigenze dei clienti, contribuendo significativamente allo sviluppo e alla modernizzazione dell'edilizia. Per l'approccio pionieristico nell'applicazione di tecnologie avanzate e soluzioni sostenibili, che le hanno permesso di realizzare progetti di alta qualità, efficienti e soprattutto rispettosi dell'ambiente. Complimenti a Luxor Building per il settore edile. Ancora congratulazioni. Diamo questa sera il benvenuto all'ingegner Francesco Storniolo, founder della società Luxor Building, che opera nel settore edile, dalla progettazione alla messa in opera. Elemento distintivo della vostra azienda è l'attenzione ai dettagli e all'armonia degli elementi. Come riuscite a garantire questi risultati? La Luxor Building nasce nel 2009 e fa un percorso abbastanza deciso, deciso sulla qualità, sulla passione e sull'onestà. Oggi riusciamo a garantire questo grazie al mio staff, al mio ufficio tecnico, al mio ufficio amministrativo, al mio ufficio fornitori, che cura nel minimo dettaglio tutte le esigenze e le particolarità di un progetto che facciamo a volte anche noi, perché siamo anche un'azienda che fa un engineering e quindi diamo la possibilità al cliente di vedere sia dalla progettazione dei lavori finiti, il dettaglio specifico di tutto quello che sono le proprie esigenze. La Luxor Building si occupa anche di restauro conservativo? E se sì, quali sono i progetti più significativi che avete realizzato o state realizzando in questo ambito? La Luxor Building si è occupata negli anni di restauro conservativo con dei lavori molto particolari e in questo momento abbiamo intrapreso un progetto veramente molto grande e ambizioso che è quello del castello, del restauro conservativo del castello Guglielmi, sito su isola maggiore nel lago Trasimeno. Considerate che è una struttura che all'interno ha una chiesa del 1300, un monastero del 1300, la chiesa di San Francesco d'Assisi. Questo restauro ci rende il gruppo, rende l'azienda onorata perché è un'opera d'arte che ovviamente fa parte di una storia importante, passata, presente e futura. Ingegner Storniolo, la Luxor Building fa parte di un gruppo più ampio? Se sì, potrebbe spiegarci come è strutturato il gruppo e quali aziende e settori ne fanno parte? La Luxor Building è stata l'azienda principale, è nata nel 2009, come dicevo poc'anzi, e poi successivamente sono nate ulteriori aziende, una società che fa da rivendita, da acquisizione materiali sia a dettaglio che anche all'ingrosso, e poi inoltre ho anche ulteriori società come una società immobiliare, una società nautica e da poco anche una società relativa al mondo televisivo. Il settore dell'edilizia ormai non può più prescindere dalla sostenibilità. Voi in questo campo che strategie avete messo in atto? Noi siamo stati una delle società, anzi la prima società in Sicilia, ad aver fatto partire il primo cantiere col Superbonus 110 nel lontano 2020. Questo progetto per noi è stato molto bello, e soprattutto c'è la possibilità di dare ai nostri clienti la possibilità di riqualificare le loro abitazioni guardando a quello che è il risparmio energetico e la salute dei nostri figli, perché il futuro ovviamente è fatto di generazioni quali i nostri figli e i figli dei nostri figli, e quindi abbiamo l'esigenza oggi e soprattutto abbiamo il dovere di essere bravi e riqualificare questo piccolo mondo che ormai tiene all'interno oltre 8 miliardi di persone. Questa sera avete ricevuto l'Award Le Fonti per la vostra posizione di eccellenza, l'attenzione al dettaglio e la soddisfazione dei clienti. Questo premio cosa rappresenta per voi, per lei e per il suo team? Rappresenta un applauso enorme per i miei ragazzi, collaboratori sia di cantiere che di ufficio, perché io da solo ovviamente non potevo e non potrei fare tutto quello che facciamo. L'ITER sì, fenomeno fra virgolette anche, ma senza una squadra dietro il fenomeno si ferma, quindi sono veramente contento di avere un gruppo così grande che mi rispetta e che assieme riusciamo a fare opere veramente molto importanti.